A solid heart decay under the crown Taking the weight of which has yet to be found Bella a tutti ragazzi, qui solo Kuki che parla Oggi, come vedete, ritorniamo sul let's play di Battlefield Hardline E cercheremo di finire il quarto episodio Bye Nelle puntate precedenti Gli aerei decollano, la droga viene lanciata Chi gestisce tutto questo? Buco la sierda Accetto l'accordo Ando cazzo andiamo Il negozio è all'interno del centro commerciale Andiamo a prenderla Nelso di solito piazzava degli uomini al centro commerciale Per ogni evenienza In più, tutto il cari stava inseguendo E tutto il casino viene tenendo Non sarà facile Lei è la mia partner Andiamo e basta Quanto cazzo piove Ah, mi ha scoperto Porca troia Ah, mi ha scoperto Ah, mi ha scoperto Qui Lo cazzo sta sparando Lì, lì Cazzo Cazzo Brucia questa stronza Aia Porca madonna Nooo Oh, Cristo Agenti a terra Ripeto, agenti a terra Il negozio è all'interno del centro commerciale Andiamo a prenderla Nelso di solito piazzava degli uomini al centro commerciale Per ogni evenienza Il negozio è all'interno del centro commerciale E tutto il casino che ne deriva Lei è la mia partner Ah, sì Era il mio lavoro Tantiamo e basta All'interno del centro commerciale 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 Non ho niente Lo stronzo è a terra, cellulare in arrivo Va bene, tredici Fermo, resto dove sei? Non ho niente Fermo, sei in arresto Figlio di puttana Fermo! Mani in alto Non ho niente Fermo lì Fermo lì Ok, Mattos, troviamo la tua porta E poi ti porto dentro Vai come ti fa Nick, la postazione di sicurezza Controlla e ti mandi di quella postazione di sicurezza Forse troveremo caso Qualche risultato? Non scherzavi a proposito del personale Un'altra parte Non se non è più Ma non è che hai fatto Non è che hai fatto Marete i posti di lavoro? Non è che hai fatto Non è che hai fatto Che ti mandi di andare in acqua Non è che hai fatto Dai, dai, ti sento a malapena. Non so cosa ha detto, ma non suonava bene. Mani in alto, in alto. Sì, sì. Polizia, fermo! Sì, sì. No, muoviti! Sì, sì. Ma che cazzo! Questa? Questa? Che casino! Non muoverti! Sta succedendo qualcosa. Guardate dappertutto! Fermo lì! Sì, sì. Sì, avete controllato lì? Sì! 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 Cercate dappertutto! Controllate là su! Controllate che non ci sia nessuno! Continuate a cercare! Se c'è qualcuno qui, dobbiamo trovare! erstco la sua! Sì! Adesso! Sì! 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 ... Guardate Vinton Fermo, mani in alto Sì, sì, nessun problema Ehi, non muovere Ehi, cazzo Prendetelo Prendetelo Mi credo stiano arrivando in fanno, mi chiedo Beh, grazie a te siamo tagliati fuori Sì, pensi davvero che sia con il suo poliziotto corrotto in città? No, ma sei l'unico che ho per le mani Cazzo, l'ho ammazzato Questo fa sicuramente l'idea un complice Mi deve ammazzare Siamo pure a parlare, Dota Hai capito cosa ha detto? Sì, credo di aver capito No, ma sei l'unico di sotto, pazzo Spacca tutto, spacca Vai alla sala della sicurezza Nick, l'uomo robato È il negozio di Nels È pieno di clienti Mendoza, presto Mi stanno addosso È lì Sto lavorando Ho bisogno di dare Nick Peccato Mendoza Dai Mendoza Sì Come no? Tutto a posto Dove si sta arrivando? Dobbiamo incontrarlo in un paese Bene Allora restiamo stocco Arrivano due uomini di Nels Ci serve tre luce Sentite Nick Hai bisogno di me Fermo lì Guarda 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 Sapete che stavo pensando Ti ho addentrata di espranto E la sota È quasi po' elico non trovare Spacca tutto Spacca, spacca, spacca Ah, per la cazzo di porta Cazzo di porta Sì 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 Cazzo di questo cordello Sì 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 Hai visto? Sì 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 Uccidete questo strutturlo Sì 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 Guarda Una Sì 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 Guarda il macello merda è più efficace a colpo solo questo fucile a colpo solo amine, amine porca puttana quanta cazzo dice oh 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 quanta cazzo di gente c'è aia merda uuuuuh staccato tutto staccato tutto tutto obiettivo completato bene bene allora nick sergente carl stoddard hai il fottuto diritto per una volta nella vita cazzo di rimanere in silenzio tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te in tribunale capitano capitano qui c'è tutto quello che deve sapere oh fammi indovinare ha scatenato questa guerra di droga ha messo una banda contro l'altra per eliminarle tutte tutte tranne la sua signore mhm ho molte prove che collegano nels ad un detective corrotto di miami ma niente di schiacciante speravo che che trovassi l'ultimo tassello quello decisivo e quindi ho trovato grazie eh ma che cazzo nick voglio che tu lo sappi grazie per avermi salvato il culo stanotte molte grazie davvero che cazzo tu e te la cinesina kai gli affari interni troveranno dei soldi a casa tua per la precisione 33.000 dollari la cifra esatta dell'ultimo trasferimento di nels ovviamente la domanda è che cosa ne hai fatto del resto dei soldi ma che cazzo ti stai incastrando se non hai capito kai ti ha aiutato più di una volta perchè non hai preso i soldi e basta fatta di questo allora noi ci abbiamo provato ero certo che avremmo potuto lavorare bene insieme ma no tu hai voluto fare il buono a tutti i costi vero? stupido ragazzino ti ha arrestato ti ha arrestato scemo di merda bene a tutti ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate un mi piace al video al mio canale e alla pagina di facebook alla prossima puntata mi ha sbloccato anche un obiettivo alla prossima puntata non 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 non